Qui a Desenziano per lo Scouting Conference, il contributo che porterà in questo evento quale sarà? Il contributo sul modello di Scouting dell'Udinese, mi spiace molto che non possa essere presente oggi sia Andrea Carnevale che è il responsabile Scouting, ottimo dirigente dell'Udinese e il direttore sportivo Cristiano Gianretta perché stamattina hanno una riunione in sede a Udine e quindi ci sarò io a rappresentare e a dare modo di far capire come funziona un po' il modello Udinese nello Scouting, però devo dire che mi spiace molto che non ci sia Andrea Carnevale e Cristiano Gianretta. Nonostante il momento negativo resta un modello da seguire l'Udinese per quello che ha saputo fare, quello che ha saputo costruire per i risultati che ha ottenuto in questi anni grazie alla grande rete di osservatori e non solo? Devo dire che poi nel calcio ovviamente quando ci sono dei momenti negativi di risultati della prima squadra spesso magari confondiamo quello che poi è tutta quella macchina grossa, importante di una società di calcio che è quella macchina che normalmente i tanti non vedono, noi siamo abituati ovviamente a vedere gli attori principali che sono i giocatori che scendono in campo domenicalmente. E' ovvio che gli umori quando la prima squadra non va bene dal punto di vista dei risultati, gli umori a cascata sono negativi per tutti, non si sta del tutto bene, però la macchina a calcio è una macchina come quella della società Udinese, è una macchina veramente importante che muove tantissime persone che quotidianamente fanno il loro lavoro e questa è la macchina che deve continuare e deve essere di grande supporto finché, voglio dire, poi la prima squadra passi questo momento negativo che, insomma, non dico spesso, però nel calcio avviene perché avviene nello sport e avviene nella vita in generale. Ogni anno nell'Udinese ci sono giocatori che si mettono particolarmente in mostra e suscitano l'interesse di grandi club, uno di questi per quel che riguarda questa stagione è Allan, inseguito da tanti club in Italia, si è parlato dell'Inter, della Fiorentina, secondo lei come andrà a finire e soprattutto è destinato a questo punto ad andare via dall'Udinese Allan? Io non sono un operatore di mercato, sono uno scout, quindi lavoro nella struttura dello scouting dell'Udinese, tante volte sapete molte più cose voi, no, di mercato, però, insomma, fa sempre molto piacere che giocatori, e non solo Allan, giocatori dell'Udinese, siano seguiti dai grandissimi club, però ricordo sempre che l'Udinese ha anche interesse a migliorare il suo percorso sportivo di anno in anno e quindi il nostro lavoro è diventato un lavoro molto più selezionante, si può usare come termine, cioè nel senso che andiamo a selezionare maggiormente i giocatori che andiamo a vedere proprio per alzare il livello sportivo della squadra, anche se è sempre un lavoro, voglio ricordarlo, molto difficile poi da parte di uno staff tecnico insegnare, incastrare, perché è un grande lavoro, anche qua uso un termine di cucito, no, da parte di una società che mette a disposizione dei seri professionisti, non mi sto riferendo all'allenatore, allo staff tecnico, ma anche a coloro che devono abituare a parlare l'italiano, a insegnare l'italiano agli stranieri che arrivano, a sapersi alimentare, quindi sono tanti gli aspetti che una società di calcio e l'Udinese in particolare dà attenzione. Sono tanti giocatori interessanti e questo fa sempre molto piacere. Devo dire che poi abbiamo sfatato o si è sfatato un detto che io non ho mai ritenuto corretto, che è quello di pensare che bravi all'Udinese, ma poi quando si va nei grandi club non si è così molto bravi. Ma devo dire che negli ultimi anni, visto Sanchez, visto Andanovic, visto Asamoah, visto che qua potrei elencare tutti quei giocatori che sono usciti negli ultimi anni dall'Udinese, hanno fatto bene a Udine, ma hanno fatto anche molto, molto bene nei più grandi club europei. Tornando ad Allan, è pronto comunque per il grande salto? Ma io penso che sia un giocatore che potrebbe giocare, intanto è un giocatore dell'Udinese e ci fa molto piacere, però credo che sia un giocatore che potrebbe giocare in questo momento nei più importanti club d'Europa. Al sudamericano Under-17 avete pescato il giovanissimo Leandrigno. Quali sono le sue caratteristiche e le sue possibilità di crescita? Le caratteristiche di questo giocatore e le possibilità di ulteriore crescita? Insomma, le caratteristiche di questo giocatore sono caratteristiche che ci hanno molto impressionato sul fatto che sia un giocatore che ha qualità tecniche molto alte in velocità, che oggi è un dato importante riuscire a fare dei gesti tecnici di alto livello in velocità. È un giocatore che attacca molto bene gli spazi, poi quello che potrà diventare a breve o medio-breve, insomma medio-lungo, lo determina poi il campo per le cose che ho anche raccontato prima, cioè la capacità poi che ci sarà da parte non soltanto del giocatore, ma di tutti quelli che ci lavoreranno al suo inserimento, al suo adeguamento insomma in un calcio diverso, che sapete benissimo che poi in Italia devi insomma abituarti anche agli aspetti tattici, però è ovvio che la base di partenza delle qualità che ha questo giocatore sono qualità realmente molto importanti, quindi sono le basi principali su cui lavorarci, se non ci fossero queste, insomma speriamo che quanto abbiamo visto poi si confermi sul campo e questa è la cosa principale importante, però la base di partenza vi posso assicurare che è molto importante.